Voi continuate ad amare, ad amarci e soprattutto amate come ci amiamo qui noi nella nostra famiglia di MTM. Vediamolo un po'. L'amore è donare qualcosa che non si ha a qualcuno che non la vuole. Nessun amore è più sincero dell'amore per il cibo. Amare se stessi è l'inizio di una lunga storia d'amore. Amore è passare una notte vicino a un bambino malato oppure una notte con una persona adulta molto in forma. Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. Che l'amore è tutto e questo è tutto quello che sappiamo sull'amore. Si vede bene solo con il cuore l'essenziale invisibile agli occhi. Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi. L'uomo è cacciatore e la donna è pescatrice. Un bacio è un apostrofo rosa tra le parole tam. L'uomo è cacciatore e la donna è pescatrice. L'uomo è cacciatore e la donna è pescatrice.